Sono 10.000 i ragazzi fino a 16 anni che in regione non sono in regola con le vaccinazioni, se non adempiono. A settembre scattano esclusioni e sanzioni. Scaraventata terra sotto la minaccia di un coltello note da incubo per un'anziana di Pagnacco, i malviventi le strappano con lana e anelli. Domani si proclama il nuovo consiglio regionale, attesa per gli ultimi verdetti, Federica continua a lavorare sulla giunta ma dall'opposizione arriva il primo attacco, ecco che parte il poltronificio. Gli apicoltori friulani accolgono con favore i sequestri del tribunale per gli insetticidi vietati dalla legge, queste sostanze sono usate e le api muoiono. Auccio Curva Nord concordi nel sostegno ai colori bianconeri, l'udinese di Tudor accaccia di un nuovo risultato sorpresa nel lunch match contro l'Inter. A tutti voi buonasera, bentrovati all'appuntamento serale con l'informazione di Udnews TV, avete sentito nei titoli alcuni dei fatti di oggi, li approfondiremo, ce ne sono anche molti altri, molte altre notizie, vedremo tutto in compagnia di Nicolangeli. Buonasera Nicola. Buonasera Giorgia. E poi c'è lo sport, in prima pagina all'udinese mancano due giorni alla sfida contro l'Inter e arrivano messaggi importanti da parte della tifoseria. Buonasera Maurizio Ferrari. Buonasera Giorgia e Nicola, buonasera al nostro pubblico e proprio dal nostro tifo, dal nostro pubblico partiamo in apertura della pagina sportiva perché sia l'Associazione Udinese Club sia la Curva Nord hanno pubblicato dei post sui social network, in particolare andiamo a leggere sulle rispettive pagine Facebook annunciando il sostegno pur con situazioni diverse. Partiamo dal comunicato dell'Associazione Udinese Club che scrive non lo merita ma dobbiamo stare vicini alla squadra, mancano solamente 270 minuti, l'obiettivo che dobbiamo perseguire e accompagnare la salvezza nostra Udinese. Ci sono diversi passaggi in cui si sottolinea come la cadetteria sarebbe un dramma per i tifosi, come ci sarebbe la volontà di sostenere la squadra per tutti i 90 minuti e anche oltre. Noi ci aspettiamo tutto questo e se non dovrebbe esserci stato l'impegno non potremmo costringervi a non fischiare ma ricordate, scrivono che il campionato non finirà al termine di questo match visto che all'orizzonte c'è una fondamentale trasferta a Verona e un ultimo appuntamento in casa contro il Bologna. La salvezza da portata e comunque poi scrivono questo non significa che non comprendiamo e non condividiamo l'amarezza e la delusione ma non è questo il momento per andare contro tutto e tutti. Questi alcuni passaggi del comunicato che trovate sulla pagina Facebook dell'Associazione Udinese Club. C'è un comunicato anche che riguarda la Curva Nord che annuncia una protesta per i primi 45 minuti ma non in merito all'andamento della squadra bensì alle decisioni prese dalle autorità per i DASPO. Ve lo leggiamo anche questo. Invitiamo a disertare gli spalti per i primi 45 minuti di domenica. Protestiamo per i provvedimenti eccessivi presi da parte dell'autorità verso una curva da sempre coerente. Nel secondo tempo però l'annuncio tutti uniti a sostenere la nostra maglia. Quindi c'è comunque la volontà di sostenere il bianconero ovviamente di cercare di portare l'Udinese magari ad un risultato importante contro l'Inter. Gara che è stata preparata questa mattina alle 11.30 nella seduta che andiamo a ripercorrere con Stefano Giovampietro. Venerdì di allenamento per l'Udinese di Igor Tudor che è tornata ad allenarsi al centro sportivo Dino Bruseschi dopo la seduta di ieri alla Dacia Arena. Per i bianconeri è stata una seduta mista tra palestra e campo. La squadra ha svolto infatti una fase di attivazione all'interno visto anche il tempo poco clemente del mattino. Subito dopo Danilo e i compagni si sono recati sul campo 2 del Bruseschi per una fase atletica seguita da altri esercizi di possesso palla finalizzato al riscaldamento. Dopo come è successo nelle ultime giornate c'è stata una fase tattica per preparare al meglio la sfida all'Inter di Luciano Spalletti reduce da una cociente sconfitta contro la Juventus in casa che ha compromesso il cammino verso la prossima Champions League. Un Inter che si presenterà senza gli squalificati Vesino e D'Ambrosio che dovrebbero essere sostituiti da Borca Valero e Santon a cui l'allenatore nerazzurro tra gli ex della gara dovrebbe dare una prova d'appello dopo le aspre critiche ricevute sabato sera. Dall'altra parte tornerà invece dalla squalifica Jakubi Ancto pronto a strappare anche una maglia da titolare per la sfida di domenica all'ora di pranzo con il meteo previsto che dovrebbe evitare quindi temperature elevatissime. Scelta ampia per Igor Tudor per la sua formazione che vuole arginare l'Inter dei connazionali Brozovic e Perisic. Un Tudor che potrà contare su tutte le forze della Rosa a eccezione di Gabriele Angella. Rimangono vivi i soliti ballottaggi con Samir, lo stesso Jankto e il croato Balic in vantaggio sui vari Noiting che ha festeggiato il compleanno al lavoro, Barak e De Paul. Ormai quasi completa la marcia di avvicinamento alla sfida contro la quinta forza del campionato in cui l'Udinese non deve guardare la classifica e cercare di tirare fuori un risultato positivo per affrontare al meglio il rush finale di questa Serie A. Domani ci sarà la rifinitura e la conferenza stampa di Tudor prima dell'inizio del ritiro per la sfida di domenica mattina. La gara con l'Inter si giocherà all'orario delle 12.30, una sfida che ha visto spesso in questo orario vincere l'Udinese contro la formazione nerazzurra e conquistare punti importanti non solo per i discorsi europei in passato ma anche per la più recente salvezza conquistata al fotofinish. Nel prossimo contributo analizziamo proprio questo trend. Non sarà un saloon da film western ma la Dacia Arena ad ospitare una sfida da mezzogiorno di fuoco. L'ultimo lunch match stagionale dei bianconeri sarà contro l'Inter dell'ex Luciano Spalletti a cui l'Udinese diede il primo dispiacere della stagione all'andata. Un girone dopo l'Inter è passata da duellare per lo scudetto a cercare disperatamente la Champions, calo che diventa ancora più duro analizzando il momento friulano. La scorsa stagione bianconeri e nerazzurri si sfidarono sempre a pranzo in una gara che vide prevalere immeritatamente la formazione milanese di misura e nel finale. L'Udinese passò in vantaggio con un gol di Jakubi Ancto, proprio colui che rientrerà a disposizione di Tudor dopo la squalifica smaltita a Benevento. Se il mister croato vorrà guardarsi bene dal match winner e con nazionale Ivan Perisic, l'Udinese ha il compito di provare a sovvertire i facili pronostici. L'impresa all'ora di pranzo non sarebbe una novità. Per ben due volte a gennaio, in gare disputate alle 12.30, l'Inter è caduta in Friuli, nella stagione 2010-2011 e 2012-2013, coincise con le ultime due imposizioni sui nerazzurri nella storia della Serie A. Annate diverse, concluse con soddisfazioni di carattere europeo, ma la partita del mezzogiorno è stata chiave anche per l'ultima salvezza last minute. De Canio, chiamato in sostituzione di Colantuono per mettere l'Udinese al sicuro al photo finish, mise un mattone clamoroso sulla permanenza in aba, tendo il Napoli, che allora duellava con la Juventus per il titolo. In una gara dove molti mettono segno 2 e dove la X non esce dal 2007-2008, è facile immaginare che nei cassetti della mente di Tudor ci sia un sogno non troppo diverso. Tudor che interverrà in conferenza stampa domani alle 13, come al solito vi ricordiamo la diretta sul nostro canale e subito dopo, al termine della presentazione della partita, ci sarà invece la presentazione dei City Camp 2018, i due turni che saranno protagonisti nel corso della prossima estate e di cui ovviamente si parlerà domani anche in compagnia degli ospiti presenti al tavolo della sala stampa. Invece, passando alla serata di ieri, ospiti della serata dell'Ossetto d'Oro, c'erano personaggi importanti come Franco Causio e De Agostini che hanno parlato anche del momento dell'Udinese, li andiamo a riascoltare. I punti bisogna andarseli a guadagnare con una mentalità diversa e speriamo che, insomma, come in passato, Domenica riesca a fare bene. All'andata l'Udinese fece una grande partita a San Siro, quindi vuol dire che nelle sue capacità ci sono, è naturale che il momento è diverso, gli altri giocano per la Champions, tu giochi per la retrocessione, però sono sempre obiettivi e quindi l'importante è portarlo a casa poi alla fine dell'anno. Io credo anche che ci siano squadre che stanno peggio, che hanno un calendario più difficile, non si doveva arrivare a questo punto probabilmente. Sicuramente loro arriveranno dopo la sconfitta contro la Juve e le Nati, quindi perché devono vincere, perché poi hanno una partita importante, non sbaglio, con la Lazio e si giocano la Champions. Però io credo che bisogna avere rispetto ma mai paura, anche se è l'Inter. Io credo che sicuramente Tudor qualcosa si inventerà, quindi già a Benevento sicuramente ha fatto qualcosa di positivo. Una partita che è giocata a mezzo giorno e mezzo può dire qualunque cosa. Ripeto, rispetto ma mai paura. Rispetto ma mai paura, queste le parole del Barone Franco Causio. Chiudiamo così la nostra prima parte di Pagina Sportiva e linea che torna a voi. Sì, per parlare in apertura di vaccini. Perché? Perché nella nostra regione sono circa 10.000 i bambini e i ragazzi fino a 16 anni che non sono in regola con le vaccinazioni e quanto emerge a ridosso del termine previsto per la consegna dell'autocertificazione. Se nel prossimo anno scolastico le famiglie non provvederanno, i bimbi fino a 6 anni non potranno frequentare le scuole. Per quelli più grandi invece sono previste sanzioni. Vediamo. Sono al momento circa 10.000 in tutta la regione, gli under 16 non in regola con le vaccinazioni. Su una popolazione scolastica che complessivamente conta fino ai 16 anni 170.000 iscritti, poco meno del 6% non è quindi vaccinato. È quanto emerge dai dati dell'area prevenzione della regione a fronte dell'avvicinarsi di giovedì 10 maggio, giorno in cui scade la proroga di due mesi del termine per la consegna dell'autocertificazione delle vaccinazioni obbligatorie. Come era stato precisato l'annuncio dello slittamento, volto a permettere il completamento del passaggio della documentazione tra scuole e aziende sanitarie, per l'ultima parte dell'anno scolastico prevarrà il buonsenso. Gli alunni non in regola potranno perciò terminare l'anno scolastico, ma in vista del prossimo le cose cambieranno, a spiegarlo il direttore dell'area prevenzione della regione, Paolo Pischiutti. Per quest'anno è stato deciso il mantenimento della frequenza, non avendo indicazioni di problemi particolari, a fronte comunque di un'azione di monitoraggio e controllo costante. Se per quest'anno abbiamo deciso di essere morbidi, sicuramente le cose cambieranno nel prossimo, quando saremo più duri nei confronti di chi non sarà in regola. Se le famiglie non provvederanno quindi a vaccinare i propri figli, saranno a rischio frequenza oltre 2.000 bambini dagli 0,6 anni. Diverso il discorso per quello fino ai 16, per i quali scatteranno le sanzioni. E di vaccini è tornato a parlare anche Zaya, Nicola. Sì, siamo sulla pagina dell'ANSA, che cosa dice il governatore del Veneto, che da parte del governo non c'è stata volontà di dialogare, ma solamente coercizione. Cosa dice Zaya? Non capisco perché nelle scuole dell'infanzia no, e invece nelle scuole dell'obbligo sì. Leggiamo, il governatore Luca Zaya, del Veneto e non del figlio di Venezia Giulia per adesso, torna sul tema vaccini dopo le difficoltà verificate in molte scuole, citando che il governo, criticando che il governo sostiene, abbia scelto la strada della coercizione, anziché quella del dialogo. Il nostro modello spiega, puntava sul dialogo, si è deciso per la coercizione e questi sono i risultati. Cambiamo argomento, ora vi raccontiamo la notte da incubo, vissuta da una signora di 82 anni che vive nel comune di Pagnacco. Stava dormendo in casa da sola, quando nel cuore della notte due uomini sono entrati sfondando una porta e una finestra. L'hanno immobilizzata a terra, strappandole di dosso alcuni gioielli. Si è svegliata di soprassalto intorno a luna, a causa di alcuni rumori sentiti all'esterno della villa dove vive sola. Si è alzata dal letto, avvicinata alla porta d'ingresso, che pochi istanti dopo ha visto sfondare, insieme alla finestra vicina, da due uomini con il volto coperto. Notte di terrore per una 82enne di Pagnacco, immobilizzata a terra dai malviventi, sotto la minaccia di un oggetto tagliente, forse un coltello o un pezzo di vetro. I due, che hanno parlato in italiano con un accento non chiaro, apparentemente straniero o dialettale, gli hanno strappato di dosso una collanina ai due anelli, procurandole alcune lievie escoriazioni. Poi hanno rovistato velocemente per casa, non trovando altri oggetti di valore, ma solo un centinaio di euro che hanno afferrato prima di dileguarsi nell'oscurità. Appena si è ripresa dallo shock, la donna ha chiesto aiuto a un vicino, che ha a sua volta allertato i carabinieri della compagnia di Udine, giunti poco dopo insieme al personale del 118 che ha visitato e medicato l'anziana. I militari dell'arma nella mattinata hanno fatto alcuni sopralluoghi per individuare eventuali telecamere ed elementi utili alla ricostruzione dei fatti. A loro spetterà anche accertare se questo episodio è ricollegabile ad almeno altri due casi analoghi nella dinamica avvenuti nelle ultime due settimane a tricesimo. Andiamo ora a Gorizia, dove gli arrivi dei richiedenti asilo sono in netto calo. Sta infatti dando i suoi frutti il pressing compiuto dalla Questura sui cosiddetti dublinanti, ovvero sui migranti che arrivano nel capoluogo isontino dopo essersi visti rifiutare il riconoscimento della protezione internazionale in altri stati europei. Vediamo. Dai 302 registrati a gennaio si è passati ai 70 del mese di aprile, corrispondenti a una media di appena due al giorno. I richiedenti asilo in arrivo a Gorizia sono in drastico calo, complice la pratica adottata dalla Questura di trasferire i dublinanti, ovvero coloro la cui domanda di protezione internazionale è di competenza di un altro Stato membro dell'Unione Europea. E quanto è venuto ad altri due pakistani, la cui stanza a Gorizia risaliva a febbraio. Effettuati i rilievi Eurodac e riscontrata la positività delle impronte digitali in Germania, la Polizia ha chiesto ottenuto i decreti di trasferimento, provvedendovi per entrambi una volta scaduti i termini per proporre ricorso. Nelle prossime settimane saranno effettuati altri trasferimenti verso Germania e Austria per migranti per i quali saranno scaduti i termini per il ricorso. Una pratica che ha sicuramente determinato il calo di arrivi a Gorizia grazie a tre fattori. Prima di tutto l'accelerità nelle operazioni di fotosegnalamento e il contestuale avvio della richiesta di presa in carico verso lo Stato competente in base al regolamento Dublino. Poi la notifica del decreto di trasferimento verso lo Stato competente a soli 15 giorni dall'arrivo del migrante. Per coloro che hanno già fatto istanza in altri Stati dell'Unione Europea è quindi derivata l'impossibilità di accedere alla locale commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Continuiamo sul tema migranti, Nicola. Sì, andiamo su Repubblica nell'edizione di Palermo che ci informa un articolo di pochi giorni fa di una situazione grave nel centro di Zuara in Libia con foto, anche con tanto di foto, di immagini fotografiche si denuncia la presenza di 800 profughi in un vero e proprio centro di detenzione in condizioni disumane. Qui possiamo vedere un po' di un'immagine che si riferisce a questo centro ed effettivamente non è delle migliori questa foto per quello che riguarda le condizioni di vita. Sempre relativamente al paese nordafricano che ricordiamo negli anni passati è stato un vero e proprio luogo di smistamento e di partenza da parte dei migranti verso il continente europeo. C'è un'analisi interessante sempre di questi giorni del Sole 24 Ore che riflette sulle condizioni politiche della Libia. Sappiamo che vive una condizione di instabilità forte dal punto di vista amministrativo ma si specifica nel pezzo a breve non è prevista una ripresa degli sbarchi delle partenze in questo caso verso l'Italia o verso Malta. Termiamo argomento. Scoperto un traffico illegale di datteri di mare dalla Croazia verso l'Italia. Si parla di un sequestro di circa 225 kg di prodotti ittici. Vediamo. 225 kg di molluschi bivalvi di origine provenienza croata introdotti illecitamente e destinati al mercato delle pescherie e della ristorazione del sud Italia. Una quindicina riguardano datteri di mare specie in via di estinzione di cui è vietata sia la detenzione che la commercializzazione. Gli hanno scoperti i militari della Guardia di Finanza di Muggia in un carico complessivo di una tonnellata di prodotti ittici trasportato in un furgone frigo con targa italiana fermato durante un controllo lungo la grande viabilità triestina. L'ispezione, condotta con il supporto degli ispettori della Capitaneria di Porto di Trieste ha riscontrato per 210 kg di molluschi tra cui mitili e ostriche la mancanza della documentazione commerciale prevista dalla normativa comunitaria volta a salvaguardare l'igiene e sicurezza alimentare. Nel complesso dunque sono stati sequestrati 225 kg per la quindicina relativi ai datteri di mare il trasportatore, un italiano del sud è stato denunciato all'autorità giudiziaria triestina per il reato di detenzione di esemplari di una specie protetta per i restanti kg non trasportati a norma prevista una sanzione amministrativa compresa tra i 2 e i 6.000 euro. Il carico sequestrato avrebbe fruttato sul mercato illegale oltre i 2.500 euro. Sequestri in mare che sono piuttosto frequenti, Nicola? Sì, sono frequenti sia sul versante adriatico qua siamo su Foggia Today che ci racconta di un sequestro di 20 kg di ricci di mare e 4 kg di datteri dalle parti tra Vieste, sul Gargano e Mattinata. Quindi una quantità che fa notizia e che è molto meno consistente di quella di cui abbiamo sentito adesso nel servizio di Monica Nardini. Non è una cosa solo del mare adriatico e sempre di questi giorni ho trovato su Amalfi Notizie un sequestro di 20 kg, sempre devono essere unità preconfezionate insomma di datteri, invece dalle parti di Sorrento. Quindi numeri che fanno capire quanto consistente sia stato il sequestro invece di cui abbiamo dato notizia prima. Eh sì, eh sì. Cambiamo, voltiamo pagina, parliamo ora di politica. domani si proclama il nuovo Consiglio regionale c'è attesa per gli ultimi verdetti Fedriga continua a lavorare sulla giunta ma dall'opposizione arriva il primo attacco. Ecco che parte il poltronificio, vediamo. A cinque giorni dallo spoglio, sabato mattina finalmente dovrebbe arrivare la proclamazione ufficiale degli eletti alla carica di consigliere regionale. Dopo le polemiche di questi giorni per i ritardi l'Ufficio Centrale ha comunicato che il rallentamento tecnico nelle procedure è stato determinato dal fatto che l'Ufficio stesso ha rilevato alcune incongruità nei dati riportati dai verbali delle sezioni e ciò ha reso necessaria l'audizione dei presidenti delle stesse audizioni concluse oggi. I dubbi riguardavano la ripartizione della lista di progetto FWG con due consiglieri eletti a Udine, Di Berte Bini e uno a Pordenone, Vacker, quindi Fratelli d'Italia con la conferma di due seggi, uno a Pordenone per Alessandro Basso e uno a Trieste per Claudio Giacomelli. Salvo sorprese il quadro rimarrà tale e a quel punto qualche elemento in più nel Toto Giunta lo si potrà avere. Le dieci caselle della squadra che Fedriga sta preparando iniziano a delinearsi. Accanto al vicepresidente Riccardi, dato per confermato Forza Italia dovrebbe avere un altro posto e il nome che prende quota è quello del triestino Walter Zalucar forse per la sanità. Sul fronte Lega, che avrà le quote di maggioranza il neogovernatore ha spiegato di essere pronto ad intestarsi alcuni tecnici in quota a carroccio mentre scalpitano su tutti Mazzolini, Bordin, Zilli e Roberti. Progetto FWG è pronto a giocarsi le carte Bini e Vuga, Fratelli d'Italia, Basso o Scocci Marro autonomia responsabile, Sibau. Se, come ha ribadito anche ieri, i nuovi assessori dovranno lasciare la carica di consigliere scalpitano per fare il loro ingresso in consiglio i primi non eletti delle varie liste. Un fattore è questo che dall'opposizione non tardano a raccogliere per andare all'attacco. A Fedriga è bastato un solo giorno per iniziare a far lievitare i costi della politica. Quanto ci costerà il suo poltronificio fatto di assessori tutti esterni al consiglio? Si è chiesto il segretario regionale del PD, Spitaleri. Torniamo ora sul ballottaggio del 13 maggio per il comune di Sacile. Un derby tutto interno al centro-destra. Ieri vi abbiamo proposto l'intervista a Carlo Spagnol sostenuto da Forza Italia. Oggi invece vi proponiamo le parole dell'ospidante Alberto Gottardo sostenuto dal Popolo della Famiglia Autonomia Responsabile Lega, Attiva Sacile, Fratelli d'Italia Civica per Sacile, Alberto Gottardo, Sindaco. Ancora una decina di giorni per trovare 700 voti. Alberto Gottardo, il secondo classificato alle elezioni comunali di Sacile sta cercando di ridurre lo svantaggio accumulato nel primo turno partendo dal 36% delle preferenze per il ballottaggio del 13 maggio apre la porta a possibili alleanze guardando contenuti e sensibilità e cerca il confronto con il rivale Carlo Spagnol. Entrambi sono candidati di un centro-destra spaccato che complessivamente è stato votato dall'80% dei cittadini. Abbiamo proposto a Carlo Spagnoli il candidato sindaco della coalizione di Forza Italia di fare un confronto pubblico fra noi per permettere ai cittadini sostanzialmente di avere su ogni tema la posizione esatta dei due schienamenti. Cosa intendiamo fare con il nostro programma? Carlo Spagnoli ha rifiutato l'invito dicendo che secondo lui è stato tutto già detto chiaramente abbiamo speso tutti una campagna elettorale cercando di spiegare i nostri contenuti noi crediamo però che il confronto diretto fra i due candidati fra i due programmi sia una cosa da dare ai cittadini una possibilità da dare nel senso che appunto su ogni tema emergerebbero in maniera chiara quali sono le differenze quanto vuole fare una parte e quanto l'altra. Dopo l'esito del ballottaggio naturalmente c'è stato un confronto con i candidati delle varie liste che non sono state ammesse al ballottaggio stiamo dialogando anche con le forze appunto non presenti al ballottaggio per verificare insomma quali sono i punti di incontro nel programma riteniamo che il nostro sia sicuramente più vicino ad alcune sensibilità e su questo sicuramente stiamo lavorando non per fare un apparentamento formale ma perché riteniamo che se il bene deve essere quello della nostra città questo è quello per cui ci siamo messi tutti in gioco sicuramente è giusto valutare da parte di tutti quali sono i programmi insomma più affini e da questo punto di vista siamo fiduciosi di trovare dei buoni punti di contatto e di dialogo con le altre forze che non sono ammesse al ballottaggio la moria di api continua ad essere un serio problema nella provincia di Udine dopo i sequestri del tribunale in questi giorni abbiamo sentito il parere degli apicoltori la situazione è piuttosto complicata e complessa perché nonostante gli eti che ci sono ancora già dal 2013 in provincia di Udine continuano a essere utilizzati i neonicotinodini che sono stati messi al bando appunto nel 2013 in tal senso il nostro consorzio si era già mosso per fare in modo che l'attività degli inquirienti venisse accelerata per arrivare a delle conclusioni certe per quanto riguarda noi abbiamo fatto una sorta di indagine con i nostri associati e dall'inizio della primavera è stato praticamente un disastro perché abbiamo visto che a macchia di leopardo e soprattutto in occasione di semine le nostre api morivano c'è stato un depavoramento dell'attività delle api in maniera pazzesca mai come quest'anno i sequestri effettuati su una ventina di terreni sono visti quindi favorevolmente? Noi le leggiamo in maniera favorevole perché sappiamo benissimo che le api sono più piccole di noi e che viaggiano sul territorio per cui nel momento in cui il territorio è malsano automaticamente le api vengono a scomparire e se scompariono le api significa che c'è qualcosa di brutto all'incarno del nostro territorio che dopo si rivolge anche su di noi Ci sono delle stime sulla moria di api nel territorio provinciale e dei dati? In questo calcolo non l'abbiamo fatto perché come dicevo prima è a macchia di leopardo nel senso che più la zona adesso fa gagna, buia, la bassa meno nella zona di Pavia di Udine per esempio dove io abito però anche qui cominciano a fare degli effetti strani non lo sappiamo ancora lo sapremo quando finirà la campagna della raccolta del miele e capiremo che dalla raccolta esigua anche quest'anno di miele sicuramente ci saranno stati problemi di moria che hanno determinato questo mancato raccolto Cosa troviamo sul tema nel mondo del web? Giorgia troviamo un servizio di Udine Today con un apicoltore come protagonista che è Giuliano Marini che ha un'azienda dalle parti della zona di Fagagna vediamo se riusciamo a sentire anche quello che dice e spiega perché L'eccezione della situazione gli alveari, i favi, questi si chiamano favi dovrebbero essere sempre tutti coperti così la situazione, questa è una bella famiglia la situazione che andiamo a trovare spesso invece è questa favi scoperti di api il fatto che non ci siano le api a coprire la covata vuol dire che mancano le api vuol dire che le api sono morte precocemente o nate ammalate quindi morte subito e di conseguenza l'alveare ha un numero di api di popolosità troppo basso ecco vedete questa era praticamente la spiegazione tecnica relativa al fatto che ci sono davvero poche api in giro e c'è questa moria che viene denunciata da un sacco di tempo e con l'inchiesta di questi giorni insomma abbiamo avuto la certificazione eh sì cambiamo ora l'argomento perché ci avviciniamo al 6 maggio e tante anche quest'anno le iniziative per ricordare l'anniversario del terremoto domani pomeriggio a Maiano Zamberletti consegnerà la cittadinanza onoraria ai vigili del fuoco questa sera invece all'eventuno al cinema sociale di Gemona la Cineteca ha organizzato una serata speciale con la proiezione di alcuni documentari tra cui Portis deve rinascere qui per la regia di Stefano Morandini che è stato nostro ospite nel Tg di Pranzo sentiamo ci racconta l'abito del paese soprattutto del lotte per in qualche maniera spostare il paese c'è chi voleva restare lì dopo il terremoto del 76 soprattutto dopo il settembre c'era una frana che incombieva sul paese quindi c'era la necessità o di trasferire l'intero abitato da un'altra parte ma non si sapeva dove o di sparpagliare la popolazione in altri luoghi non è un documentario sulla memoria soltanto perché è una proiezione verso naturalmente questa possibilità che l'università offre a questo paese che è disabitato di avere un nuovo impatto sui nuovi terremoti perché purtroppo l'Italia è sempre in movimento e questi luoghi che sembrano abbandonati in realtà servono a questo c'è una ciclabile molto importante che attraversa il paese che vede la presenza di più di 100.000 ciclisti ogni anno e in più c'è tutta una ritualità e questo è il lavoro dell'antropologo che interessa ancora il paese i giovani quelli che non hanno conosciuto il terremoto si riuniscono raccontano delle storie delle loro famiglie e quindi è interessante il fatto che non sia un abbandono ma sia una proiezione verso il futuro stavamo vedendo le immagini di un altro dei filmati che verrà proiettato questa sera al cinema sociale di Gemona su iniziativa della Cineteca si potrà vedere anche Artquake l'arte salvata il documentario realizzato nel 2017 da Sky Arte a cui anche la Cineteca del Friuli ha partecipato fornendo del materiale tratto dal proprio fondo terremoto e poi ancora un altro documentario un'altra produzione di Mauro Carraro 59 secondi questo il titolo del cortometraggio di animazione che ha ottenuto alcuni riconoscimenti importanti anche al festival di Locarno e al piccolo festival dell'animazione cosa abbiamo in tema Nicola sul web abbiamo un'intesa fra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'ISPRA per fare che cosa per sistemare nei pozzi e delle sorgenti di tutte le regioni delle sonde che registrino ogni minimo sussulto della terra per capire al meglio terremoti e vulcani e controllare la qualità dell'acqua così ci informa l'agenzia ANSA quindi la scienza evolve sempre Giorgia facciamo un salto al mare dai ci vuole un po' di relax da oggi a domenica Lignano Sabbiadoro protagonista di Lignano Sabbiadoro Goes Green prospettive di una città ciclabile un weekend completamente dedicato al mondo delle due ruote in concomitanza con l'apertura della stagione balneare nella località Friulana andiamo a vedere sindaco Lignano pronto per una svolta green se noi facciamo delle scelte che possono favorire la mobilità lenta e quindi percorsi cicloturistici che si sviluppino all'interno della città in maniera coerente e ordinata sacrificando posti macchina eventualmente o anche determinati sensi di marcia delle nostre vie può essere un elemento che abbia dei risvolti economici importanti e permetta una riqualificazione della nostra offerta turistica che poi verrà promossa sul mercato in termini di differenziazione rispetto ad altre località quindi penso che sia la strada giusta noi in termini di programmazione abbiamo già dato una visione di tutto ciò attraverso l'adozione del piano urbano del traffico e dell'allegato sulla bicipolitana si tratta ora di concretizzare nella realtà questa visione e quindi siamo di fronte a una sfida che è quella di cercare di fare delle scelte in un contesto già urbanizzato progettare le ciclabili le ciclovie in un ambito turistico ma con anche dei bandi a cui si può accedere questo è un po' il tema che vogliamo affrontare ovvero mettere in condizioni gli operatori intesi nel senso più ampio possibile ovvero dal singolo hotel fino ad arrivare alla pubblica amministrazione che vogliono ottenere un beneficio economico dallo sviluppo del cicloturismo all'interno di questo modulo noi vedremo il come si fa quindi abbiamo chiamato i principali esperti nazionali che affronteranno il tema della comunicazione per esempio come raccontare la propria attività ai ciclisti ma anche poi il tema dei bandi esistono o esiste un mare di finanziamenti provenienti dallo Stato provenienti dall'Unione Europea provenienti dalle regioni che permettono agli operatori economici di poter fare il salto di qualità il problema è che molto spesso questa cosa non si conosce però non funziona tutto benissimo per quanto riguarda le piste ciclabili Nicola qua si fanno convegni si parla si discute si mangia e si beve però si aspetta da tanto tempo una pista ciclabile fra Lignano e Bibione da Bibione avevano annunciato il collegamento a partire dal primo maggio avevano anche dato la notizia io ho fatto la figura del fesso celebrando la cosa e qui siamo sulla Nuova Venezia un articolo di Alessio Conforti con il sindaco di Bibione Codognotto che diceva apre il primo maggio il ponte eccetera eccetera non ho foto di oggi qua ne abbiamo del 29 aprile pochi giorni fa e il collegamento non è ancora aperto questo è il pontile dalla parte di Bibione non credo l'abbiano finito per una volta non è colpa nostra non è colpa di Lignano del freddo Venezia Giulia questa è la condizione o era la condizione alcuni giorni fa di Bibione avranno messo due assi in più sarà pronto sta di fatto che non si può andare in bici con il ferri il caronte come si dice il traghetto che ti porta da una parte all'altra che doveva essere attivo aspetteranno il prossimo weekend per fare la festa al taglio del nastro ma non c'è quindi meno convegni più piattaforme questo è il messaggio non annunciate cose che poi non si verificano perché Nicolà Angeli reagisce così io vi ho aperto rimango male sono sensibile come l'arbitra Oliver va bene al contrario al contrario guarda vado da Maurizio Ferrari passiamo allo sport esatto meglio meglio Maurizio non ho bidoni nella spazzatura al posto del cuore nemmeno io andiamo a dare invece le notizie che riguardano il Giro d'Italia perché abbiamo parlato di due ruote in chiave un po' negativa invece è partito regolarmente il Giro allora andiamo sul sito della Gazzetta per vedere la gioia di Tom Dumoulin che è la prima maglia rosa del Giro giorno perfetto bello in rosa ma conta alla fine Giro che per arrivare invece qui in Friuli dovrà aspettare fino al prossimo 19 maggio con le due tappe del weekend che tra l'altro chiuderà anche la Serie A terz'ultima giornata invece del campionato primavera con l'udinese di Mr. Giacomin che affronterà domani alle 13 in anticipo con diretta su Sport Italia la Juventus a Torino servizio di Lorenzo Pausa è una volata salvezza senza respiro per l'udinese primavera se da un lato il punto conquistato contro il Bologna ha permesso alla squadra di Giacomin di mantenere ancora un piede fuori dalla zona play out dall'altro c'è il rammarico per aver visto sfuggire di mano proprio nel finale una vittoria che avrebbe dato molto più ossigeno in classifica l'essere a per i punti col Napoli tredicesima della classe e precedere momentaneamente i partenopei solo per una questione di scontri diretti non mette ancora a riparo i bianconeri da rischio degli spareggi e diventa allora fondamentale trovare almeno un'altra vittoria negli ultimi 270 minuti decisivi ci proveranno domani a Vinovo al cospetto di una Juventus rivitalizzata dal successo sul Verona dopo sei partite senza i tre punti e che non ha perso le speranze di ragguantare i play off ai friulani servirà una prova di carattere come quella dell'andata dove la squadra reagì al doppio svantaggio con la rete di Cagliazza e pur non riuscendo ad evitare la sconfitta cercò fino all'ultimo il pari con quella stessa grinta che una settimana dopo avrebbe portato all'impresa di Natale sul campo del Milan ora la doppia sfida di lusso si ripropone nel momento più delicato del campionato che si concluderà tra due sabati a Verona Sponda-Chievo anch'essa in piena corsa per la post-season il calendario sulla carta poco benevolo non deve però spaventare Brunetti e compagni che sanno bene che neanche le dirette concorrenti avranno il beneficio di un finale morbido e che un colpaccio con una big potrebbe fare la differenza è tutto per lo sport vi ricordiamo anche che domani ci sarà la partita della GSA che trasmetteremo Gara 3 che potrebbe chiudere il discorso play-off almeno per questa fase contro Tortona per gli uomini di coach Lino Lardo linea a voi e speriamo che vada proprio così grazie Maurizio Ferrari grazie Nicola Angeli grazie Giorgia e a voi per averci seguito buona serata grazie a tutti grazie a tutti